A Milano in questi giorni si riunisce il Network ECHO, una network di agenzie indipendenti, internazionali, a fare da perdona di casa Admirabilia di Lorenza Bassetti, che è l'unica agenzia rappresentante in Italia. Hi, my name is Huma Agoraz, I'm from Alpatec, Marketing and Public Relations in the United States. We have offices in Chicago, New York and Los Angeles and represent companies in 16 different industries including housewares, consumer electronics, travel, tourism. Hello, I'm Sarah Render, I'm the Chairman of ECHO and I'm also a Director of Four Communications, it's UK partner. We have offices in London, Edinburgh and Cardiff and our clients range from government through to travel and tourism boards, airlines, technology companies, banks, energy providers and a very, 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 very broad base of consumer goods as well as professional services. Hello, I am Thierry Veroff from Paris, ECHO France and the name of my agency is Wellcome. Wellcome was created in 1981. Wellcome works in all sectors of activities with 90 employees, it's one of the main agencies in France. E io sono Lorenza Bassetti di Admirabilia, ho veramente il piacere di ospitare quest'anno in questo momento a Milano l'incontro di ECHO. Abbiamo la rappresentanza di una trentina di colleghi, tutti imprenditori di agenzie che come la mia di Admirabilia sono appunto in tutto il mondo, ci rappresentano come network e questa volta Milano appunto li riunisce tutti. Quindi abbiamo approfittato di questa occasione veramente imperdibile per organizzare dei momenti con la stampa, per organizzare dei momenti con i clienti, raccontare del nostro network e di quanto veramente le PR siano una leva fondamentale per le aziende, per crescere, per farsi conoscere in tutto il mondo. Abbiamo voluto con l'aiuto del network mettere insieme le dieci regole d'oro che le aziende devono seguire e i dieci errori assolutamente da evitare per conquistare il mondo con le PR. Grazie a tutti.